Colin McRae è stato uno dei più grandi piloti della storia del rally. Nato e cresciuto in Scozia, nel corso della sua carriera ha vinto due campionati britannici e 25 gare mondiali. Nel 1995 è stato il più giovane campione del mondo di tutti i tempi. Grazie alla sua grinta e a una guida spettacolare è diventato l'idolo di milioni di tifosi. Nel settembre del 2007 Colin McRae è morto in un incidente di elicottero insieme al figlio Johnny e a due amici. Per il mondo dei motori è stato uno shock. Questo documento vuole rendere omaggio a un grande campione che ha saputo trasmettere la propria passione in modo unico. Un uomo che ha vissuto per i rally e che vivrà per sempre nella memoria di chiunque l'abbia visto in azione almeno una volta. Grazie a tutti.